Amici e amiche della Mountain Bike, ben ritrovati a questa puntata di MTB Gran Fondo, puntata dedicata interamente al Cross Country, al Gran Premio Frantoio Colli del Poeta, sesta e penultima prova della Coppa Colli Euganei 2008 da Arqua Petrarca in provincia di Padova, d'altronde appunto. In questo challenge padovano dei Colli Euganei, in questo luogo così suggestivo, si sono dati appuntamento per la penultima prova della Coppa Colli. Oltre 250 biker per cimentarsi su questo percorso misto collinare, abbastanza impegnativo, di circa 8 chilometri abbondanti a giro, gli organizzatori dell'Euganei Bike, capitanati dai fratelli Boschetto, hanno voluto dare un riconoscimento particolare ai tre campioni italiani di questa specialità, che sono originari della provincia di Padova, ovvero la sorvidente Monica Squarcina, a sinistra il giovane Mattia Mazzocco e a destra Maurizio Borsato della categoria Gentleman. Scattati alle ore 10 precise, come potete vedere, i biker della categoria Senior, che si sono quindi, vedete, incanalati lungo la salita, la prima asperità di questo circuito di Arqua Petrarca. Poi il folto pattuglione dei biker della categoria veterani, gruppo numeroso, una sessantina di biker che si fanno strada, anche, insomma, si fanno un po' anche spalla pur di passare in questa strettoia. Scattano quindi cadetti junior e debuttanti, tra i più veloci, come sempre, in gara, li aiuta l'età. Quindi sono partiti i Gentleman, che abbiamo visto poc'anzi, appunto, contraddistinti sull'estrema destra dalla maglia iridata del campione italiano e padovano Maurizio Borsato. Eccoli sfrecciare. Quindi l'ultima partenza è stata riservata ai Super Gentleman, alle donne e ai giovanissimi della categoria Primavera. Un percorso di 8 chilometri che presenta, appunto, caratterizzato dalla salita dei Sette Guadi e poi dal giro del Monte Ventolone, percorso interamente, quasi interamente sterrato. Seguiamo in queste prime fasi l'azione del biker Vicentino Angelo Formaggio della Bikes Benato, categoria senior, che ha preso la testa della gara in queste fasi, inseguito da una vecchia conoscenza della Coppa Colli Eugani del 2008, che è appunto Alessio Illi della Pedali di Marca. Quindi c'è Matteo Cimiotti della Morbiato Racing Bike e con il numero 24 Alessandro Zandegiacomo della Fisio Sport. Questi quattro biker si sono spartiti le prime posizioni tra i senior, poi invece tra i veterani si è distinto nella sua azione Nereo Canale della Scavezzon. Mentre vediamo con il 291 lo junior Mauro Rampin della Pedali di Marca e Maurizio Borsato, primo dei gentlemen, in questo momento. Dicevamo appunto che c'è Mauro Rampin della Pedali di Marca che sta inseguendo l'azione molto veloce dell'altro junior in gara oggi di un certo calibro, ovvero Mosè Savegnago della Corratec. Andiamo a vedere anche le altre categorie dove c'è una bella lotta. Eccoli tra i debuttanti, tra Thomas Meliti, l'avete visto con la tenuta blu, il numero 316 della Cicli Tosetto, che sta guidando allora la categoria debuttanti, mentre tra i Primavera non c'è storia con Mattia Mazzocco, dell'Euganea Bike che viaggia con una certa velocità. Monica Squarcina controlla qualcosa della sua bicicletta, ma ci sembra che sia comunque solitaria al comando della gara donne fascia A. Mentre ecco alcune illustri vittime della discesa del calto Callegaro dove si sono rotte diverse coperture. Andrea Pendini della DV e con lui c'era anche Pesavento, Roberto Pesavento della Panozzo. Mentre al termine del secondo giro, dopo la foratura di Angelo Formaggio, che era il leader della gara, passa al comando Matteo Cimiotti della Morbiato. Biker categoria senior. Vediamo a seguire. Nereo Canale si riconferma alla testa della gara veterani, mentre vedete che Alessio Illi, secondo dei senior, ha forato. La sua ruota posteriore è decisamente a terra, tiene duro il biker della Pedali di marca, e poi, eccolo qua, decide di intervenire sulla sua ruota posteriore per tentare appunto una riparazione. Domenica sfortunata per il biker trevigiano che ha incassato diverse vittorie qui alla Coppa Colli e Uganei, quindi passa anche Alessandro Zandegiacomo della Fisio Sport, che sorpassa Illi. La bella Ilenia Colpo oggi assiste i compagni di squadra della Benato Bike, mentre Mosè Saveniago procede al comando della categoria junior per la sua società, la Corratec. Al comando tra i cadetti con il 256 Fabio Capuzzo della bici verde Monselice. Salita, vedete, davvero impegnativa, mentre insegue tra gli junior con il 291 Mauro Rampin della Pedali di marca, appunto all'inseguimento. L'abbiamo visto in precedenza di Mosè Saveniago. Grandi festeggiamenti qui per gli atleti in gara, mentre ancora con il 275 Luigi Barizza è al terzo posto tra gli junior. Sta cercando di accorciare le distanze, mentre oggi Boschetto con il numero 255 Emanuele della Yogania Bike deve accontentarsi del secondo posto. Intanto Maurizio Borsato, nella sua categoria dei veterani, fa il vuoto. Massimo Milanetto della Bikes Benato che tenta di ricucire le distanze tra i gentlemen alle spalle di Borsato. Eccolo. Belle fasi, queste molto interessanti. I biker impegnati veramente al massimo in questa salita. Mentre con il 295 c'è un altro dei cadetti che tenta di recuperare la leadership in presa non facile di Mosè Saveniago. Davide Gerlinzoni al momento quarto per la ciclo delta della provincia di Rovigo. Siamo a ruota allora in queste fasi in salita mentre continuiamo a seguire lo sforzo dei biker in questi ultimi chilometri. ci stiamo portando verso l'arrivo e il termine dei tre giri previsti. Michele Zordan della Corratec è un cadetto in questo momento in quinta posizione. Questa gara aveva un particolare interesse per i molti biker padovani iscritti perché, vi ricordo, era anche valevole come prova di campionato provinciale come gara unica e sono gli ultimi sforzi questi per la Coppa Colli Euganei con Monica Squarcina che anche oggi si ripete vincitrice all'arrivo della Coppa Colli del Poeta o meglio Trofeo Colli del Poeta con Lucindo Magagnin che vince tra i super gentlemen fascia B mentre a sorpresa arriva la sagoma di Nero Canale della Scavezzon come vincitore assoluto di questa gara di Arqua Petrarca eccolo qua il biker della categoria veterani che ha sorpassato Matteo Cimiotti della Morbiato Racing Bike che comunque chiude vittorioso tra i senior e si aggiudica anche il titolo provinciale ovviamente titolo provinciale anche per Monica Squarcina Mosè Savegnago vince la gara nella categoria junior mentre andiamo a vedere anche gli arrivi dei cadetti con la maglia rossa spunta appunto Fabio Capuzzo di Bici Verde Monselice che è anche campione provinciale quest'oggi tra i gentlemen neanche a dirlo c'è Maurizio Borsato che precede Massimo Milanetto quindi campione provinciale Borsato si susseguono gli arrivi qui ad Arqua Petrarca vedete in questo scenario incantevole e con la grande ospitalità offerta dal frantoio Colli del Poeta che ha ristorato tutti amici, parenti figli, mogli e mogli dei biker e l'organizzazione dell'Euganea Bike che si è fatta davvero più che in quattro per festeggiare come si deve la conclusione di questa gara di Arqua Petrarca e assegnare le maglie di campioni provinciali bravi i primavera brave le donne questi sono i podi di gara e bravi anche i debuttanti Thomas Meliti eccolo qui sul gradino più alto il biker della Tosetto e poi in compagnia di amici e appassionati salutiamo anche appunto il podio dei senior stavolta Cimiotti davanti allo sfortunato Illy che ha forato e con le maglie dei campioni provinciali padovani mountain bike con i quali ci complimentiamo MTB Granfondo proseguirà dopo la pubblicità con un altro interessante campionato autunnale ovvero il trofeo d'autunno Gran Premio Play Life Passione